La formica che si aggira, privadali, è l'operaia. Se ne vedono a migliaia, tutti intenti a lavorare. Pieno, pieno. A volte ce ne erano dei misciami da sopra. Vedete che pieno che va, eh? Le formiche sono pieni più bianchi e si vedono lì. Non muore. E c'è la formica senza nulla. Pensate, noi quelli lì sono persone. Pensate che scenario, vederli morire a fiotti. Dalle api, dalle formiche, dalla natura. Vogliamo imparare uno sguardo limpido, uno sguardo semplice. Donna del monte delle formiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti.